buongiorno a tutti e benvenuti al 64esimo episodio può essere potrebbe essere 60 non lo so andiamo subito a vedere piuttosto di fare delle figure da chiacchia dato che non vorrei dire cavolate fino adesso non ho sbagliato manco una volta siamo al 64esimo episodio the commander turoato siamo ancora qua su uccisione confermatissima va che t'ho visto quindi fai poco cazzi no dietro questo coso e niente sono bloccato qua va la vada lei a morire grazie mille sarà molto sufficiente il suo il suo coso il suo sacrificio molto curioso di vedere le nuove mappe che usciranno con il nuovo set aggiuntivo del season pass quest'anno invece di 4 mappe per il multigiocatorissimo ci saranno ben 3 mappe basta nei scorsi ce ne erano 4 invece questa volta ce ne sono 3 soprattutto perché poi ci sarà va bene il classico zombie nuove mappe zombie e ci sarà al posto di diciamo una nuova mappa che ce ne saranno solo 3 ci sarà una nuova operazione di guerra non mi ricordo bene avevo letto le varie informazioni però è passato un poco da diembo quindi non mi ricordo e quindi le gestion fe proprio le gestion fe comunque ci saranno 3 nuove mappe ci sarà una nuova modalità una nuova mappa che altro codemonio una nuova mappa zombie ed su una spiazza se non mi pare almeno l'inizio dovrebbe essere su una spiazza quello che mi ricordo e poi ci sarà una nuova operazione di guerra che ovviamente faremo vi porterò ancora altre operazioni su guerra magari vi porterò anche ovviamente vi porterò anche altre operazioni intanto che dovrà uscire questo il 30 zennio se mi sbaglio il nuovo pacchettione semmai non il prossimo ma quello dopo ci sarà farò una partita su guerra ci fanno anche i grandi punti quindi diciamo che il video uscirà un attimino più elasticamente lungo e io c'ho sempre la sfia che devo beccarmi il gangbang attack e ne la faccio a uccidere i nemici qua dentro ci sta sempre delle gente infatti che ho fatto i... vabbè che ho fatto i marker quell'arma aveva lanciato il coso velenoso il velenamento proprio e fammo gli assist ma tanto devo... tanto devo ancora andare a riscattare il coso che ho fatto l'ordine degli assist ma chi cacchio se ne sbatte le palle perché tanto è un coso per i social quindi c'è cacchio si mette questo è giocare a color duty a stare su... sto cazzo a stare sui social proprio da pazzia totale quindi niente tanto l'avevo visto soltanto perché c'era l'ordine dei social bello facile non vuoi fare... non vuoi fare 10 assist in una partita? ragazzi non vuoi fare 10 assist in una o due partite? però dopo ho fatto caro che c'era... il coso assist bruzzo e... mamma mia via è insensibile che me ne facevo proprio niente aiuto qua c'è qualcuno qua c'è parecchie gente ma c'era qualcuno qua sopra? dove cazzo sono? erano qua? non c'è nessuno che vuole giocare con me? qualcuno che me sale ecco a posto sono contento ma potete anche uccidermi cioè si fa per dire ne? aio! si fa per dire non capite quando le persone scherzano? eh? malefici oratori di merda schifosi che passate tutto il tempo medaglie, 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 medaglie medaglie, 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 medaglie via, via, via uccisione no, no, no si, si, si beh, prenditele tutte te intanto che ci siamo, no? dato che io mica sono qua a fare un Road to Commander che non finirà mai cioè deve uscire finire esce ce la fanno a fare uscire tutti i contenuti del Season Pass e io sono ancora qua a fare il Road to Commander perché sono a livello 40 quindi me ne mancano 50 ragazzi puttana miseria bella connessione tra l'altro degli altri complimenti Across the Universe e niente questa ce la siamo sconfitte tanto è durata pochissimo cioè di solito almeno un Deathmatch dura 10 minuti soprattutto se esce sui cannoni di Navarone là e ce ne facciamo un'altra che cacchio volevo dire non ho fatto niente del niente ragazzi ci vediamo alla prossima partita qua in codesto video ed eccoci qua STG perché non voglio dire cavolate il mio 61esimo episodio l'ho fatto su sta mappa a grande prestazione dopo tanto che non ci stavo più giocando che avevo smesso un attimino di fare video e per necessità dato che avevo finiti da parte ho ricominciato in questi giorni a rifare solo qua su Call of Duty avevo fatto una buona prestazione quindi oserei dire di perseverare un attimino soprattutto perché qua c'è della paura insita in tutti i nostri cuori di giocare su sta parte della mappa allora con molta calma sto qua ma proprio eccoci qua stavo dicendo che mi aveva massacrato le palle sto qua sempre con sto figo del fucile da precisione da dove ma perché tutti fermi guarda ma se gioca così è lì giochi di guerra e non lo so c'è capito oddio la madone che grande prestazione che sto facendo qua oggi qui con voi dato vi dico subito che molto velocemente forse ragazzi nei prossimi minuti non sentirete più parlare nessuno perché ho degli impedimenti quindi sti gatti ok quindi se da poco ragazzi non sentirete più la mia fulvida voce molto simpatica è perché non posso parlare era già successo mi va in un altro episodio che poi vabbè avevo continuato io poi un attimino a parlare ma qua ho delle cose che non si può non si può e quindi devo smitragliare molto velocemente così certo se si riuscisse anche subito a vincere questa partita soprattutto se io smettessi di sparare ai piedi dei miei avversari che magari se sparo un attimino più in alto li becco in posti c'è un attimino più come si dice assassini si riesce anche a fare no eh porca miseria ragazzi mi sa tanto che adesso vi saluto giusto forse si forse no per adesso ci sono ancora restate sintonizzati anche perchè a sta ragazza deve partire avvenire quindi tanto sono stato salvato e beatificato perchè altrimenti mi sarei ucciso con la mia stessa same tex giusto per non per farvelo pesare c'è un perk per correre più veloce boh pelivolo spia nemico approvvigionamento nemico non devono rifornirsi poi perchè io continuo a perseverare passare di qua porca loca sai magari ci fosse anche qualcuno niente non non mi si fa un regalino soprattutto non mi si fa più neanche una medaglia puttana miseria che sciopire cacchio orco demonio toh eh qualche uno ma sbaglio non ci sono più tanti come si dice eh fucili di precisione in giro siamo in vantaggio meno che mi ricordi io c'è stata una infinità soprattutto su sta mappa come caccia ha fatto a spararmi che ci aveva il coso storto eh c'è l'azzurro se vabbè cioè voi avete visto nella mia camera cioè lui aveva il fucile che stava mirando al portone davanti e mi ha ucciso a me giustamente no e me sto qua io eh in testa me lo tirasse sto cornudo sto scostumato davvero si oh promette io mi muoio eh io mi muoio e muoro eh io mi muovo e muoro muoro e muoio defico schiatto ma perché perché parto basso a mirare perché perché non mi danno vabbè che su Xbox c'è la possibilità di giocare a per quanto mi vabbè per quanto mi riguarda il Colors Duty più bello ovvero Black Ops 2 anche se malauguratamente non ci ho giocato tanto perché ancora ai tempi di Black Ops 2 non avevo la connessione che ho che ho adesso non avevo una connessione fissa più che altro andavo di chiavetta quindi non è che si potesse fare più di tanto con le chiavette ci ho giocato mi sono divertito però diciamo che boh arriva un abbonamento dell'X1 X3 X16 io non c'ho voglia quindi soprattutto se mi metto a sparare a quelli là con la pistola ciao male quindi detto ciò andiamo ben ben discorrendo qua con un bel 5.12 alla sconfitta odierna di oilà perfetto di questa oh basta stardo e mi metto qua se ci sta l'umidagliamento nemico no problem è che mi becca lo stesso no se ci c'è fuori uno là mi vede mi becca ma ammazza fine a posto con quello che si fa le fide di headshot ma sai che servono che incazzo le fide di headshot to perché saluto qua no eh il demonio di solito quando dai 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 fanculo headshot let's come back 10 kill pentakill ora me la paghi sticazzen no non lo faccio l'antivius porca loca stica sotto sotto qua sono ben protetto se volevi venire a prendere oi se volevi venire a prendere mi se volevi eh però mi manca un punto quelli là sticazzi col cacchio che vado a prendere con la mia oh no ti sta bene entro ragazzi abbiamo finito con un recuperate i feriti e tornate alla base 914 sicco confermate è andata proprio male 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 questa partita ragazzi prossimo episodio ancora qua su incisione confermate sperando di fare bene poi ci sarà una partita con le operazioni wear up